Parte tra qualche giorno, esattamente il 25 ottobre, la programmazione del teatro Il Piccolo a Batipaglia. Ne parliamo con il direttore artistico Fabio Massari. Volentieri. Salve a tutti. Beh, sì, questa è la seconda stagione del Piccolo, la seconda stagione produttiva. E come l'altro anno aveva un tema che si era dato, che era letteratura e teatro, quest'anno il tema è un po' più metaforico ed è prima dell'approdo. E quindi ogni testo che passerà di qui, che noi proponiamo, avrà come, diciamo, retrotesto questo, l'approdo. Si debutta il 25 appunto di questo mese, di ottobre, con Guanti bianchi, che è un testo di Edoardo Erbe, interpretato da Paolo Triestino, un bravissimo attore e regista conosciuto anche per via del cinema. Ed è uno spettacolo che racconta, è un monologo, che racconta la percezione che ha un uomo di fatica, un trasportatore, un facchino, si sarebbe detto una volta, che trasporta le opere d'arte nei musei. E quindi lui racconta le opere d'arte, grandi opere d'arte, dal suo punto di vista, che è molto interessante. Il secondo spettacolo è Condor, ed è il nome di battaglia, diciamo, di un ciclista, che è l'eterno secondo, è quello che, insomma, vede sempre la schiena, per non dire altro, degli altri, cioè dei vincitori. E quindi il suo approdo è sempre in ritardo. Poi segue il secondo e ultimo caso clinico di Freud, dopo Anna Karenina, e in questo caso è un personaggio sempre letterario, direi, all'altro polo di Anna Karenina, che è invece Mary Poppins, interpretato sempre da Giuliano Ameli. A febbraio 2026 si riprenderà con Ulisse, che è un monologo invece interpretato da me stesso, scritto e interpretato da me, ed è, come può essere anche evidente, è Ulisse che ricorda, ecco, ricorda in tarda età, ricorda quello che è la sua storia. E infine, solo per l'alzata di mano, vedete Ulisse e poi la memoria, ed è uno, sul modello dello stand-up, cioè questi monologhi che vengono fatti dal vivo, quindi con un'elettricità particolare, nei pub, nei locali, e questo è usato come formula in realtà, è un monologo vero e proprio, in cui questa attrice racconta tutte le problematiche di genere femminile, ivi compreso la violenza sulle donne, però con un tono molto brillante, insomma, ecco. Dopo la fortunata interpretazione di Anna Karenina, passiamo a Mary Poppins. Ecco, sdoppiarti in questa maniera, ci riesci benissimo? Allora, io lo spero, spero di riuscirci. Allora, voglio innanzitutto dire che Mary Poppins è sempre stato il mio mito di bambina, e è continuato ad esserlo anche ora in età adulta, e devo dire che grazie alla scelta di Fabio ho anche capito un po' il perché continua ad esserlo. Allora, rispetto ad Anna, Mary è una donna, ma è una donna che vive una doppia realtà. Mary appartiene al cielo, un punto non identificato del cielo, ma Mary appartiene anche alla terra, alla realtà, a quella che sono il mondo delle regole, ed è un personaggio che fa riflettere anche persone, in questo caso il dottore, che sembra che non debbano avere bisogno di riflettere proprio su nulla. E quindi, da un personaggio estremamente legato alle passioni terrene, un personaggio carnale come Anna, ci solleviamo un po' sulle nuvole, indagando un po' quello che può essere un dilemma, perché, strano a dirsi, ma anche Mary può avere un dilemma, dell'essere una donna appartenente al cielo, alle nuvole, e una donna che invece è anche parte della terra. Per la terra, come i abbiamo noi,